Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Nella liturgia della Chiesa le quattro tempora sono quattro distinti gruppi di giorni in diversi momenti dell'anno caratterizzati da preghiera e penitenza in cui il cristiano volge lo sguardo a Dio e alla sua divina providenza. Nel sabato delle quattro tempora di Quaresima la liturgia romana propone un passo del Deuteronomio in cui Mosè, rivolgendosi al popolo di Israele, lo invita ad essere fedele alla legge del Signore con queste parole. Oggi tu hai eletto il Signore perché egli sia il tuo Dio. Hai eletto di camminare nelle sue vie, di osservare le sue cerimonie, i suoi comandamenti e le sue ordinazioni e di obbedire al suo comando. E il Signore oggi ha eletto te affinché tu gli sia un popolo tutto suo, come egli ha detto, e osservi tutti i suoi comandamenti, onde egli ti renda eccelsi soprattutto le nazioni che ha creato, all'ode, rinomanza e gloria sua, e tu sia il popolo santo del Signore Dio tuo, come egli ha detto. Don Gueranger, che è la nostra guida nell'anno liturgico, commenta così. Il Signore ci insegna in questo passo di Mosè che una nazione fedele nel custodire tutte le prescrizioni del Divino Servizio sarà benedetta fra tutte le altre. La storia ci conferma la verità di questo oracolo. Di tutte le nazioni che sono operite non ve ne è una sola che non l'abbia meritato per la dimenticanza della legge del Signore e non può essere diversamente. A volte il Signore aspetta prima di percuotere, ma lo fa affinché il castigo sia più solenne ed esemplare. Ci si vuole rendere conto della solidità dei destini di un popolo? Si esamini il suo grado di fedeltà alle leggi della Chiesa. Se la sua Costituzione ha per base i principi e le istituzioni del cristianesimo, una tale nazione può avere dei germi di malattia, ma il suo temperamento è robusto. L'agiteranno le rivoluzioni, ma non l'annienteranno. Se la massa dei cittadini è fedele all'osservanza dei precetti esteriori rispettando per esempio il giorno del Signore e le prescrizioni della Quaresima, possiede certamente un fondamento morale che preserverà questo popolo dai pericoli di una dissoluzione. Ma cosa accade quando un popolo è infedele non solo all'osservanza dei precetti esteriori, cioè al culto e alle usanze della Chiesa, ma anche alle leggi che costituiscono il fondamento della società cristiana? Sono una donna, amo un'altra donna, non sono una madre. Così si è presentata la nuova segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, in una manifestazione del suo partito a Piazza del Popolo a Roma lo scorso 23 settembre. Il PD, che rappresenta il 17% dei voti degli italiani, ha eletto alla sua guida un leader che si presenta come bisessuale, femminista, progressista e non madre. È un'antitesi della morale cattolica, ma agli avversari politici che rappresentano la maggioranza degli italiani non mettono in discussione la proclamazione pubblica di omosessualità della Schlein, si limitano al massimo a scherzarci sopra senza osare definirla una inaccettabile trasgressione della legge naturale. Il relativismo ha sostituito l'oggettività dei principi morali. Eppure ci troviamo di fronte all'ostentazione pubblica di uno di quei peccati che la morale cattolica condanna senza appello. Secondo il Catechismo di San Pio X vi sono peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Questi peccati sono l'omicidio volontario, l'atto impuro contro natura, l'oppressione dei poveri e defraudare l'operaio della giusta mercede. Il Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II ribadisce questa verità ricordando che esistono peccati che gridano verso il cielo. Gridano verso il cielo secondo il nuovo Catechismo il sangue di Abele, il peccato dei sodomiti, il lamento del popolo oppresso in Egitto, il lamento del forestiero, della vedova e dell'orfano, l'ingiustizia verso il salariato. E lo stesso Giovanni Paolo II nell'Enciclica Veritatis Splendor al numero 81 ricorda le parole di San Paolo «Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effemminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci, erediteranno il regno di Dio». Ritornano dunque le parole di Don Gueranger. Ci si vuole rendere conto della solidità dei destini di un popolo? Si esamini il suo grado di fedeltà alle leggi della Chiesa. Eli Schlein, che proclama pubblicamente di essere sodomita, sfida quell'ordine naturale e cristiano su cui si dovrebbe basare qualsiasi consorzio umano. Dio può assistere indifferente a questo sovvertimento morale condiviso in maniera diretta o in diretta da milioni di italiani? A volte, dice Don Gueranger, il Signore aspetta prima di percuotere ma lo fa affinché il castigo sia più solenne ed esemplare. La prospettiva di Fatima, secondo cui un grande castigo attendeva l'umanità se non si fosse convertita, non dovrebbe costituire un elemento di riflessione in questa quaresima in cui Eli Schlein domina lo scenario politico.